Di ritorno a Napoli, ma sei sempre a Napoli, c'è sempre un caffè in sospeso. Vogliamo spiegare agli amici che ci ascoltano che cos'è un caffè in sospeso? Tra l'altro è l'ultimo tuo libro. Allora, una volta a Napoli, quando una persona era felice e si prendeva un caffè, invece di un caffè ne prendeva due, cioè ne pagava due. Il secondo andava al cliente che veniva subito dopo, per cui di tanto in tanto qualcuno si affacciava al bar e diceva c'è un sospeso? Questo era il caffè sospeso. Come dire, un caffè offerto all'umanità.